Non imputare loro questo peccato. Stefano è un autentico discepolo di Gesù e un perfetto suo imitatore. Inizia con lui quella lunga serie di martiri che hanno succelato la propria fede con l'offerta della vita, proclamando con la loro eroica testimonianza che Dio si è fatto uomo per aprire all'uomo il Regno dei Cieli. Nella cosfera di gioia del Natale non sembri fuori luogo il riferimento al martirio di Santo Stefano. In effetti sulla manciatoia di Petlemme già si allunga l'ombra della croce. La pianunciano la povertà della stalla.